con ad alberto ci siamo conosciuti in un modo un po strano lui è stato il salvatore ha salvato diciamo mai il mio cane quindi galeotto fu spillo io lo dico sempre e poi da lì non ci siamo più lasciati come stai tu come stai come stai il cane e poi da là è stato un crescendo allora guarda pregi ma forse sarà difetti non ne trovo difetti non gliene trovo pregi duemila pazienza questo è l'ansia l'ansia per matrimonio no no che vuoi sono cose che comunque penso come arriverò al matrimonio grazie a tutti grazie a tutti sono durante la cerimonia saranno con lui ad aspettare l'entrata che farò io con mio padre abbiamo le mie nipoti piccoline sofia benedetta come damigelle lorenzo il paggettino l'altro nostro nipotino e poi vabbè tutta la schiera di tutte le damigelle a seguito grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.